Il Consiglio Comunale è un passo avanti rispetto a un'esperienza che in questi anni è stata dura, difficile ma con grandi risultati positivi e l'esperienza ci porta a rimodulare le deleghe in base all'esperienza vissuta per servire meglio il Stato di Palermo utilizzando la grande disponibilità, il grande lavoro del professore Franco Raimondo e dell'ingegnere Cesare La Piana che hanno svolto le funzioni di assessore, che continueranno a collaborare da cittadini, da esperti, da pensatori alla nostra città e al tempo stesso con l'individuazione di due nuovi assessori, il professore Gianfranco Rizzo che si occuperà di energia, di innovazione, di comunicazione di fondi europei proprio per affrontare la sfida progettuale avendo la delega funzionale nei riguardi della SISPI e della MG Energia e al tempo stesso con la nomina di Sergio Marino che ha fino adesso svolto le funzioni di Presidente della RAP che ha reso azienda quella che erano i ruderi di un'azienda fallita e adesso potrà affrontare il tema del verde e dell'ambiente insieme perché credo che la vività complessiva della città imponga, come peraltro dimostra l'esperienza di queste ore della circonvallazione di Danisigni o del circuito arabo-dormanno come sia importante far lavorare insieme l'area verde con l'area ambiente e la ragione per la quale spettano al neoassessore Marino, spettano evidentemente le deleghe funzionali nei confronti della RAP che egli conosce esattamente molto bene, nei confronti della Reset e nei confronti che sta facendo uno straordinario lavoro positivo, nei confronti per l'ambiente la disponibilità del Presidente Marino di assumere l'incarico di assessore al verde e all'ambiente e agli animali è evidente che ci porta alla scelta del nuovo Presidente della RAP e ho trovato la disponibilità di assumere questo incarico da parte dell'architetto Roberto Dolce che è un esperto di organizzazione e di innovazione e di innovazione nell'organizzazione che credo sia quello che esattamente serve adesso ad un'azienda che c'è, che ha i mezzi ma che deve essere certamente riorganizzata anche funzionalmente per affrontare le sfide del futuro Sì, in realtà si tratta di questo, è un assessorato che arriva, una delega che arriva in un momento favorevole perché è stato fatto un grosso lavoro dall'amministrazione fino adesso, un grosso lavoro di preparazione e adesso si aprono gli orizzonti, devo dire, sicuramente favorevoli Ho parlato poco fa in conferenza stampa, ho detto che queste condizioni sono essenzialmente determinate dal fatto che ci sono a livello europeo ma anche nazionale e anche regionale, li aspettiamo un sacco di bandi e quindi di denaro che è possibile drenare qui a Palermo e in Sicilia naturalmente non tutto sarà possibile ottenere però un'occasione come questa è veramente irripetibile L'entità dei problemi che abbiamo di fronte non sono pochi non prometto di riuscire a fare tutto evidentemente perché sarebbe un presuntuoso però sicuramente prometto di provarci, quello sì abbiamo un anno e mezzo e non è molto, non è affatto molto, anzi è poco direi però in un anno e mezzo molte cose si possono fare, ripeto, a partire dalle condizioni favorevoli sui bandi europei che ci sono intorno, se riusciamo ad attrezzarci per catturarli allora avremmo fatto un po' di roba buona sicuramente Sì, certamente sarà meno spinosa di Rapp perché Rapp è stato un impegno difficile che ho portato avanti come ho detto nella conferenza stampa grazie al sostegno del Sindaco che non è mai mancato nei momenti proprio di difficoltà che Rapp ha avuto ecco questo è un premio che il Sindaco vuole darmi che io accetto con piacere sperando di continuare a dare il mio contributo per Palermo, per la Giunta e per il Sindaco Orlando ma infatti manca un anno, un po' più di un anno, certamente non ci sarà molto da fare è troppo da fare, però voglio dire continuare l'esperienza dell'assessore precedente di Rapp insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione io credo che la piattaforma di Bellonampo a medi di un'attenzione deve essere implementata perché Palermo deve avere a Bellonampo una piattaforma moderna ma soprattutto la favorita, credo che la favorita sia uno degli obiettivi strategici del Sindaco che io sposo in pieno e che cercherò di portare a termine entro l'anno nella sindacatura del Sindaco